L'ipotesi di chiusura della residenza universitaria Campomizi, paventata dall'azienda per il diritto agli studi universitari a causa del numero esiguo di studenti causa Covid, ha suscitato in città moltissime reazioni e anche dure prese di posizione, a partire dai tre consiglieri del CDA che hanno votato contro, passando per il commento durissimo del rettore dell'Ateneo, Edoardo Alesse. In tutto questo c'è stata anche la versione dell'azienda, tramite la Morganti, presidente dell'Azio, che respingendo molte accuse al mittente ha parlato comunque di eccessivi e ingiustificabili costi di gestione a fronte dei pochi studenti presenti. Gli studenti che attualmente sono alla Campomizi si aggirano intorno ai 60. Non ci stanno neppure i sindacati, molto dura la posizione della Filcams CGL, il diritto allo studio non si toccano, dichiarato Luigi Antonetti e Andrea Frasca. Riteniamo grave che certe posizioni vengano assunte senza il necessario contraddittorio con tutte le parti sociali interessate e senza che vengano minimamente prese in considerazione le conseguenze che porterebbe a una decisione di questo genere. Il diritto allo studio non può essere considerato sotto il profito dell'economicità, ma deve essere garantito e anzi siamo convinti che debba essere implementato e ampliato il più possibile. Il fatto che ci siano pochi studenti in questo momento alloggiati nella struttura non può essere certo un motivo per disattendere quello che è un punto fermo della nostra comunità ovvero l'accoglienza e l'inclusione. La CGL fa riferimento anche ai posti di lavoro che ruotano attorno alla residenza universitaria, che attualmente è pure l'unica in città. Il solo sistema di appalti diretti del Lazio, tra mensa, portineria, barre e pulizie, garantisce un salario a circa 60 famiglie e più tutto l'indotto cittadino. La Morganti ha dichiarato che l'azienda stava comunque cercando alloggi e soluzioni alternative, ma la sua risposta non ha convinto molto a quanto pare. Dobbiamo sforzarci tutti di avere una visione d'insieme orientata alla fine della pandemia per essere pronti ad accogliere nuovamente a pieno regime tutti gli studenti. In quest'ottica le istituzioni dovrebbero e dovranno farsi carico di investire sui servizi di qualità e di ripensare ad una città che vuole definirsi della conoscenza. Abbiamo inoltrato una richiesta di incontro con i vertici della DSU per far presente la nostra assoluta contrarietà a questa decisione. In ogni caso agiremo in ogni sedia per scongiurare una chiusura che ci sembra miope e assolutamente contraria allo spirito che dovrebbe animare l'azienda per il diritto agli studi universitari.